Ok, bella io sono Macca, io sono Chilla e siamo qua a Torino e non sappiamo dove cazzo siamo Oh guarda dice il nome della piazza, piazza Carlo Bruno, Giacomini, Giacomazzi, no Giacomini Oh pizza, leggete voi, pizza voi, oh non so venite a mangiare qua perché mi ispira questo Un po' piccolo però ispira la simpatia, ispira Eh boh, siamo qua a Torino e non sappiamo esattamente dove cazzo siamo Siamo qua a Torino, forse siamo davanti all'otto galleri a guardare il giro di Padre Dov'è? Ah qui c'è, c'è l'otto galleri Ok il video di adesso finisce, ci vediamo dopo, ciao Iris Ciao 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 Ciao